Come ormai sapete in questi giorni l'archicinasio è chiuso, il portone come vedete è sprangato dall'interno. Noi approfitteremo comunque di questi giorni di forzata chiusura per portarvi in giro per il palazzo e la biblioteca, per farvi vedere quei luoghi e quegli spazi che sono comunque chiusi al pubblico anche nei giorni in cui il portone è aperto. Chiameremo questa serie di video archicinasio nascosto.